Ciao ragazze, questo è il mio trucco san valentino il mio vero trucco san valentino perchè oggi è san valentino e uscirò con questo trucco so che la luce non va bene ho comunque cercato di fare un tutorial ovviamente le foto vi mostreranno appieno i colori degli ombretti ma vi dico, vi anticipo che ho usato tutti i prodotti de Balm non so se conoscete i prodotti de Balm sono dei prodotti davvero buoni sotto molti punti di vista anche sotto il punto di vista degli ingredienti io usavo già da tempo alcuni prodotti de Balm come questo correttore che ha ottimi ingredienti Time Balm da poco però mi è arrivato anche un fondotinta compatto della stessa linea che alla fine ha la stessa confezione solo un po' più grande oltre a questi prodotti uso anche altri prodotti come tantissimi ombretti tantissimi oddio in questo trucco ci sono tre ombretti e un pigmento sempre de Balm inoltre ho usato anche un rossetto de Balm che ha una confezione straordinaria perchè ha forma di carta di giornale che ha disegni della carta di giornale è davvero simpaticissimo questi prodotti arrivano dall'Inghilterra però purtroppo in Italia non sono ancora commercializzati ma mi piacciono davvero tanto come ripeto sia sotto il punto di vista della pigmentazione e della resistenza e della texture che sotto il punto di vista degli ingredienti perchè moltissimi di questi prodotti contengono tanti oli essenziali e buoni idratanti per noi per le nostre labbra per la nostra pelle ok vi lascio al tutorial di questi prodotti vi parlerò in un video a parte voi avete prodotti Balm conoscete questo brand che ne pensate? sono curiosa di sapere anche voi cosa ne pensiate io li sto usando li uso sempre molto volentieri perchè sono si poco conosciuti ma secondo me di ottima qualità ok vi lascio al tutorial un bacio e buon San Valentino a tutti questo è il mio regalo ciao 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 ciao